Salve, sono l'ex megastella del cinema Mickey Rooney e come forse sapete sono completamente e assolutamente pazzo. Mi piace gridare i topi stando a torso nudo. A volte mi piace rubare le croste degli altri. Come faccio a mantenermi così pazzo? Con le pillole da pazzo Mickey Rooney. Ne prendi una colazione e una pranzo e men che non si dica ti ritrovi sul tetto a fare la popoggio per il camino. Preggete le calze bambini!